Ero molto contento quando mi hanno detto che sarei venuto a Music on Ice perché per me è la prima volta che partecipo a questo show e poi sapete, è sempre bello fare diversi tipi di show e questo è sempre stato nei programmi del patinaggio artistico questo è uno spettacolo molto bello, è diverso dagli altri quindi ero davvero estasiato quando mi hanno scritto, quando mi hanno detto di venire Sfortunatamente per il Covid hanno dovuto rimandarlo diverse volte però adesso finalmente ci siamo, siamo qui e siamo pronti È una sensazione veramente bellissima finalmente essere di nuovo sul palcoscenico del palaghiaccio è assolutamente bello poter essere di nuovo a contatto col pubblico, tutto live, le emozioni sono alle stelle La difficoltà di cantare sul ghiaccio praticamente è di stare attenti a dove va la pattinatrice per non scontrarsi ovviamente però essendo che io ero una ex pattinatrice quando ero piccola per me unire la passione del patinaggio artistico con quello della live music è un'esperienza a me che sta veramente molto molto a cuore Due anni di stop, due anni che per noi sono stati un challenge dato che fondamentalmente non è facile ripartire con una macchina come questa infatti giustamente ieri ne parlavamo, siamo tutti molto eccitati ma siamo tutti molto più stanchi di quello che dovremmo essere perché non siamo più abituati Il cast ai patinatori è rimasto stabile più o meno dalla pianificazione dell'estate scorsa o meglio dell'inverno scorso quando abbiamo già dovuto posticipare lo show a Pasqua dunque da adesso, non nascondo che ad esempio la guerra che è scoppiata per noi ha creato non poche problematiche specialmente per tutti i patinatori che erano russi e infatti una coppia di veterani che venivano da noi abbiamo dovuto purtroppo lasciarla a casa questo non è mai facile Chi viene al Music on Ice si deve aspettare uno show di patinaggio di altissimo livello però incorniciato in una maniera tragicomica unica nel suo settore siamo uno show che ha i tavoli sul ghiaccio per avere una cena abbiamo patinatori che vengono veramente da tutto il mondo e quindi questa cosa per noi rappresenta un forte collante tutti i patinatori parlano molto spesso del fatto che siamo una famiglia e lo è veramente e quindi vi accogliamo tutti perché vogliamo che anche voi faciate parte di questa famiglia grazie 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 grazie